L'acciaio è un materiale che non è che mi piaccia molto, però ci sono delle cose in acciaio, questa è una marmitta di una moto, una BMW, nuova, riuscita male, saldata male, infatti ci sono tre, e con i collettori delle marmitte ho fatto un'altra lampada, un mio cliente di Svizzera, di Lugano, che ogni tanto passa qua e mi porta pezzi di moto, perché siamo tutti e due motocuzzisti, e ora mi ha portato queste due marmitte, con i collettori gli ho fatto un'altra lampada, L'acciaio è un po' freddo, però spero di riuscirlo a rendere caldo, perché magari adesso, ecco, questi sono i pezzi già preparati per qua, perché poi non è solo lampada, ma è anche tante soluzioni che devi trovare, perché vado, questi vengono messi qua tutti e due, ho intenzione di fare un'extraterrestriere questo, un denunciare di... Poi, sono tante soluzioni che devi trovare, perché non è, non è immediata, insomma, la realizzazione di una moto. Non sono niente per progetti? Eh, no, non progetto niente, io sono partito da questa, e assemblarla su questo pezzo qua, perché a me non piace che i fili si vedano lungo la struttura. Ora qua, qua verrà un altro pezzo di tubo, che è stato qua, che va dentro sotto il rame, e dentro passa il filo, così non si vede. Magari verrà un pezzo di rame, non di, di queste, ottonne cromato, molto più duro.